Ciao, sono Tina Pallotta e sono la consulente dermocosmetica della farmacia di Nardo. Oggi sono qui perché voglio parlarti di profumo per i capelli. Non so se ne hai mai sentito parlare, ma è un prodotto, una novità, che tra i parrucchieri va molto molto di moda. Quali sono le caratteristiche di questo profumo? Allora, i profumi per i capelli, a differenza del profumo classico per il corpo, contiene meno alcol, ha un effetto dry, quindi un effetto asciutto, non bagna il capello e non va a rovinare la pettinatura e quindi la chioma stessa. All'interno poi contiene degli oli essenziali, degli oli emollienti che vanno anche a nutrire e a mantenere bello il capello stesso. Perché lo dovresti utilizzare? Soprattutto se sei una fumatrice o se sei a contatto durante la giornata spesso con la cucina e quindi con i cibi, questo profumo va a neutralizzare gli odori che sono presenti, in questo caso nell'aria, quindi nel fumo o nella cucina stessa. È un prodotto molto molto piacevole, che utilizzano sia gli uomini e le donne, e ha questa funzione di andare proprio a rendere molto più piacevole il profumo dei nostri capelli. Io spero di esserti stata utile e se hai bisogno di un consiglio sono qui a tua disposizione. Ciao, a presto!